lo yogurt derivato del latte come si produce? lo yogurt è un alimento che si ottiene dalla fermentazione del latte consiste nel mantenere il latte per un bel po di ore in un grosso serbatoio riscaldato e si uniscono due fermenti lattici due batteri il lactobacillus bulgaricus sono il lactobacillus per gli amici l e lo streptococcus termophilus ciao sono lo streptococco per gli amici entrambi vengono messi nel latte a riscaldare fino a 45 gradi questi batteri sono golosissimi del lattosio lo zucchero del latte e a mano a mano si riproducono e lo mangiano fanno proprio così lo sostituiscono con l'acido lattico che è proprio quello che dà allo yogurt quel sapore leggermente acido il latte liquido grazie ai due batteri buoni si addensa e diventa cremoso per far riposare i fermenti lattici basta metterli al freddo smettono di riprodursi e di mangiare e riposano ciao 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 ciao